Abbiamo vaccinato fra gli 11 e i 45 anni il 28,7% della popolazione in provincia d'Arezzo. È la dottoressa Maria Teresa Maurello, direttore del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL di Arezzo, a diffondere i dati aggiornati al 31 gennaio 2016 della campagna di vaccinazione antimeningococcica voluta dalla regione toscana dopo il picco di casi di meningite degli ultimi mesi. Il Menveo, vaccino tetravalente per i ceppi A, C, W e Y, è disponibile gratuitamente fino al prossimo 30 di giugno, fino ai 45 anni di età e dall'inizio della campagna in provincia di Arezzo è stato somministrato a 35.450 persone. Non sono mancate però dall'inizio della campagna alcune notizie apparse sulla stampa, come ad esempio vaccini somministrati vicino alla scadenza. Dal momento che chi vaccina è un professionista sanitario, è evidente che i vaccini somministrati sono in pieno ambito e periodo di validità. Vorrei sfatare questo mito, qualora rimanessero dei vaccini oltre la data di scadenza, ovviamente vengono eliminati subito. I vaccini sono sicuri, vista l'esperienza che abbiamo, possiamo affermare che sono anche molto ben tollerati. Abbiamo avuto soltanto la segnalazione di alcune reazioni locali nel sito di iniezione di rapidissima risoluzione e alcuni casi di febbre. Per adesso la campagna di vaccinazione ha soltanto limiti di età, ma non ci sono categorie che hanno la precedenza rispetto ad altre. Una decisione che presto potrebbe invece cambiare. Sicuramente la regione toscana sta rivalutando la situazione ed è possibile che anche nella prossima settimana possano emergere anche indicazioni di tipo diverso, vedremo, comunque verranno rese note sicuramente. Devo dirle che è una situazione eccezionale. Abbiamo già avuto una situazione di eccesso di casi da meningococcoci in passato in Toscana, in particolare nel 2004. Si sono verificati molti casi. In quel momento la vaccinazione non era offerta né ai bambini né agli adulti. Il vaccino esisteva già. La regione toscana introdusse nel calendario vaccinale la vaccinazione anti-meningococcica per i nuovi nati. Ecco, abbiamo osservato immediatamente dall'anno successivo una riduzione dei casi. Pertanto, una situazione come questa è abbastanza particolare. Auguriamoci che questo intervento straordinario per la Toscana Centro, che annovera il numero maggiore di casi, possa finalmente mettere la parola a fine a questa situazione. Ce l'auguriamo.